Eccola, è mamma. Gli occhiali li lascia lì. Forse voleva arseminare una traccia. E se avesse avuto paura, non per sé, per Alba, non ti sembra che sia sempre nel posto giusto al momento giusto? Mannaggia a te, Malik. Carlo, io e Alba non siamo una coppia. Sei geloso? In prima visione... Voglio quello zainetto, Tavia. Come faccio? L'ha messo sotto al segreto. Sono sicuro che ce la fai. Ciao, piccole. Ci deve essere qualcosa di più. Qualcosa di più dei soldi. Eccolo. Lo agganciate. Noi stiamo al punto di partenza. Io la devo trovare, Malik. La terza stagione. Matriciana, carbonara, grigia e cacio e pepe. Carbonara? E carbonara, sì. Nero a metà. Lunedì 21 e 25. Rai 1.